Tutti che fanno le vacanze in Sardegna si stanno innamorando di tutti i posti che sono in Sardegna, quindi si può dire solo molto bello di tutto. Non dirò niente di obiettivi, non dirò niente di qualcosa per la nuova stagione, però dobbiamo ripartire dalle difficoltà che abbiamo avuto alla fine stagione, quindi si deve partire dall'inizio al 100% e iniziare a vincere subito dalla prima partita. Non tante cose, però bisogna farle bene, quindi dare una mano anche sulla fase difensiva e anche sulle cose di attaccare i spazi, ci sono tante cose che certi non le posso dire davanti alla camera. Sono un sogno, però devo dire la verità che dobbiamo lavorare molto, molto di più, però già sono un po' più fiducioso e contento perché abbiamo altri due o tre giovani che sono arrivati in Italia, si parla di Damasca anche a Torino, e altri due giovani di 16 anni, mi sa, che sono a Genova, quindi già se è un movimento, un passo in avanti, quindi spero che per futuro ci daranno una mano per raggiungere i nostri obiettivi. Io sono... Cioè, se anche c'era un'altra squadra, un'Empolo, altri, una più forte, non importa, si parla di tre punti iniziando dalla prima partita, quindi non dobbiamo perdere niente, dobbiamo iniziare subito a vincere. Un anno sarà un passo in avanti per il campionato italiano.